Straordinario, e credo sia stata riconosciuta, è premiata anche la competenza, il radicamento sul territorio. Tanti amministratori, ma soprattutto tanti operatori che mi hanno visto lavorare nel mondo della scuola e nel mondo del lavoro. Complessivamente la coalizione ha fatto più del previsto? La coalizione ha fatto qualche cosa di straordinario. Luca Zai ha fatto un risultato che nella storia della politica non ho ritrovato. Segno di una grande capacità di interpretare il sentimento del popolo veneto e anche di un'ottima capacità di amministratore. E quindi ad ora dobbiamo guardare avanti e portare a casa gli obiettivi che ci mancano. Tre priorità per i prossimi cinque anni? Ma certamente l'autonomia deve rimanere il punto di riferimento. La seconda, contare di più al governo centrale perché il Veneto ha bisogno di risposte. Terzo, ma è la prima priorità, lavoro, lavoro, lavoro.